Al Bitonto bastava anche un pareggio per tenere a distanza di sicurezza la rivale della stagione, lo Sporting Altamura. Invece, dopo il trionfo di Coppa Italia-Promozione Puglia nella finale vinta 3-0, è arrivata una sconfitta interna nella supersfida della 28esima di campionato. Una rivincita per i Murgiani che con il 2-0 timbrato al Degli Olivi sono l'unica squadra del torneo ad aver incassato con la capolista l'intera posta tra andata e il ritorno. Sei punti in tasca, ma comunque otto lunghezze dalla vetta, dove c'è il Bitonto appunto, che giovedì proverà il nuovo allungo nel recupero in trasferta con il Monte Sant'Angelo. Grande festa e coreografia delle occasioni importanti per i tifosi neroverdi, che evidentemente sognavano un nuovo sgambetto alla rivale di stagione nel giro di dieci giorni. A far ben sperare c'era proprio quella Coppa Italia, portata in trionfo prima del match, davanti a quegli stessi tifosi avversari che, ironia del destino, l'avevano vista volare via il 13 marzo scorso a Rutigliano. Uno schiaffo passato dopo appena cinque minuti, giusto il tempo per permettere ad introno di aggiustare la mira e fare secco lattanzi. Un altro Altamura rispetto alla finale, ma anche un altro Bitonto, meno tonico e più impreciso. Il primo vero tiro è di modesto, quasi alla mezz'ora, ma al capitano difetta la mira. Nella ripresa restano negli spogliatoi Rosselli da una parte e Di Benedetto dall'altra, espulsi per reciproche scorrettezze. Il Bitonto parte a testa bassa e segna con Aglieri. Per l'arbitro non vale, ma il dubbio rimane. Ci riprova allora modesto. Poi, mister di Venere si gioca la carta Capriati per Zaccaro, un attaccante per un difensore, ma si espone alle ripartenze avversarie. Al ventiseiesimo, l'indemoniato d'introno, vince la gara in velocità e serve a Castoro la palla che chiude i giochi. A dieci dal gong, Nando Terrone prova a rianimare il risultato, ma Coretti è in giornata di grazia. Dopo sette di recupero, finisce così, due a zero per gli ospiti. Per il Bitonto, che ha perso più in casa che fuori, una battuta d'arresto quasi in dolore. Per lo Sporting Altamura, con il primato che resta un miraggio, un avviso chiaro e forte, soprattutto alle rivali play-off, che ambiscono la seconda piazza. Siamo partiti bene, come partimmo in Coppa, solo che la differenza di oggi è che siamo riusciti subito ad andare in vantaggio e portare il risultato dalla nostra parte, quindi loro si sono anche un po' scoperti, però noi oggi siamo stati aggressivi, siamo andati alla grande in ogni reparto e abbiamo portato a casa il risultato. Guardate in alto o guardate indietro? È inutile prenderci in giro. A sì giornata alla fine il Bitonto è a otto punti, con una gara da recuperare. Sappiamo la forza del Bitonto e quindi sappiamo che è difficile. Noi dobbiamo vedere partita dopo partita, vincerle tutte e poi alla fine quello che viene, viene. La cosa importante è mantenere il secondo posto e fare più punti possibili affinché poi alla fine tireremo le somme. Dopo il primo gol abbiamo cercato di recuperare, non siamo riusciti. Il secondo tempo siamo entrati decisi, abbiamo avuto varie occasioni, però oggi la palla non riuscivamo a metterla dentro. E capita, non so, quelle giornate storte che puoi stare pure una giornata intera a giocare, però la palla non entra. C'è il rammarico soprattutto perché oggi abbiamo visto per la prima volta la tribuna piena. Ci dispiace per tutte quelle famiglie, quei bambini che sono venuti a tifare il Bitonto, però è andata male. Ci rifaremo già al più presto, abbiamo la prossima partita giovedì recupera a Mondo e Sant'Angelo. Speriamo di farcela.